Lei si ha appena annunciato un caso di protezione giuridica, ma adesso cosa succederà? Non si preoccupi, lei è in buone mani. Il suo caso sarà trattato dai nostri avvocati o giuristi, specialisti nel loro settore. La sua persona di contatto studierà la documentazione, procederà alle opportune verifiche e la contatterà nei cinque giorni successivi. Tutta la nostra esperienza è al suo servizio, da questo momento il suo caso è nelle nostre mani e se dovessimo aver bisogno della documentazione la ricontatteremo. Buongiorno signora Bianchi, mi chiamo Canonica di Axa Araca, ho ricevuto dei documenti, vorrei porle qualche domanda, posso? Faremo il possibile per trovare una soluzione amichevole, se non dovessimo riuscire ci dovremmo rivolgere a un legale esterno. In qualsiasi caso dovremmo chiedere della documentazione supplementare.